buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale il video di oggi è un video richiesto dalla community per quanto concene un exchange che si chiama gli hobbit gli hobbit è un exchange non recente anzi è stato fondato circa tra il 2014 e il 2015 e in questo momento sta offrendo degli e più ai molto interessanti interessanti per quanto concerne le percentuali di ritorno però a percentuali così elevate c'è da dire che c'è un alto rischio anzi un altissimo rischio di impermanente loss andiamo a vedere che cos'è questo exchange come funziona e cosa ne penso dopo la sigla la pagina ufficiale di questo exchange exchange hobbit raggiungibile all'indirizzo hobbit punto net exchange che mi è stato riportato alla mente da alcuni attenti che hanno chiesto una recensione è stato riportato alla mente perché perché non è un exchange nuovo nel senso che è stato fondato tra 2014 e il 2015 è un exchange di fondazione russa con sede a panama e permette di operare al suo interno senza che gli essi che per molti utenti sarà una grande cosa trovare un exchange senza che gli essi ma non è sempre un punto a favore perché non avere un che essi quindi non supportare la verifica del proprio utente dei clienti vuol dire non essere un exchange regolamentato o se non regolamentato comunque completamente perché conoscete benissimo le difficoltà dei vari stati alle regolamentazioni verso le cripto valute figuriamoci verso l'exchange però chi ha quantomeno la possibilità di verificare il che essi si dimostra accomodante verso le legislazioni in essere pertanto vi invito a prestare molta attenzione qualora vogliate utilizzare comunque questo exchange per i fattori che vi ho appena nominato ovvero sede legale a panama e no che i esi dal 2014 ad oggi non è stato mai menzionato né dall'exchange e neanche dalle riviste del settore nessuna manomissione nessun attacco hacker e come la maggior parte degli exchange i fondi all'interno dei portafogli sono costuditi in cold wallet disconnessi dalla rete una funzione che non ha quasi nessun altro exchange è la possibilità da parte degli utenti di andare a bloccare i prelievi in autonomia qualora sospettasse di manomissioni qualora sospettasse di movimenti nel proprio account non autorizzati l'utente può congelare i propri prelievi per quanto riguarda le commissioni gli utenti sono soggetti a commissione sui tre dei sui prelievi per quanto riguarda lo spread si aggira intorno allo 0,20 per cento per altri tipi di prelievi si aggira dall 1 al 5 per cento per quanto riguarda le valute fiat supporta al dollar americano e rublo russo non supporta euro per quanto riguarda la classifica di coin market cap si trova verso il fondo della classifica nella posizione 245 con un rank di 2.1 cliccando sugli obit vediamo che il volume nelle 24 ore è comunque basso 2,98 bitcoin hanno anche un token interno alla piattaforma che attualmente vale 1715 euro è praticamente solo listato all'interno del loro exchange e ha un movimento di mercato veramente volatile veramente assurdo rispetto agli anni passati è un exchange che quantomeno visivamente non si è evoluto tantissimo però sta cercando di uscire un pochino l'ha scoperto ad esempio hanno incrementato una sorta di launchpad che viene chiamato io farm ed è proprio per questo io beat farming che è stato richiesto un video perché come potete vedere ha degli e più ai veramente alti ad esempio con la coppia spitz btc 655 per cento proprio come si fa con la defy cliccando su farm si va a inserire la liquidità con le coppie che stiamo vedendo in sovraimpressione come ben sapete inserire liquidità nella defy stiamo a rischio in permanent loss e siamo soggetti ancora di più a questo rischio se utilizziamo delle cripto valute lo cap accoppiate a bitcoin quindi se volete utilizzare questo farmi state veramente attenti all'impermanente loss o comunque sappiate che questo rischio è molto alto inserendo ad esempio la coppia robo btc a 281 per cento di più ai si va a ottenere il token io farm che sarà listato a breve all'interno di questo exchange faccio vedere brevemente come si potrebbe andare a fornire liquidità sulla coppia spritz btc cliccando su farm supponiamo di avere a disposizione un bitcoin all'interno del nostro portafoglio andiamo su parne lo 0,5 quindi la metà si clicca su swap e quindi avremo 0 5 bitcoin disponibili e questo quantitativo di spritz una volta fatto lo swap si va ad aggiungere liquidità in automatico l'exchange va a calcolare i rispettivi quantitativi di bitcoin e spritz per dare liquidità e si può fornire per l'appunto la liquidità a queste pool a fianco sulla destra si può rimuovere la liquidità parziale oppure massima senza vincoli quindi ricapitolando e p y molto alti coppie di liquidità non standard parte per la cripto valuta bitcoin e usdt il resto come vedete sono veramente delle low cap i rischi come ho detto sono quelli derivanti all impermanente loss molto alto quindi prima di operare vi invito con tutto il cuore a fare le vostre ricerche e le vostre considerazioni personali per quanto riguarda i social l'account twitter conta più di 170 mila follower e su telegram circa 25 mila utenti sulla destra come possiamo vedere c'è anche una sorta di chat per contattare la community per inviare i messaggi bisogna avere almeno un deposito attivo abbiamo la sezione personal mail dove si possono aprire dei ticket per contattare l'assistenza e il supporto la sezione invest box permette di inserire queste valute e ottenere degli rendimenti giornalieri oppure settimanali senza alcun vincolo la sezione trade è veramente semplice si può vedere in sovrappressione acquista o vendita tramite ordine ha molto meno funzioni rispetto a tutti gli altri change per quanto concerne il trading è ridotta al minimo indispensabile nella sezione robot rete si va a creare degli ordini di acquisto o vendita automatici che verranno inseriti secondo i parametri che andiamo a scegliere bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento e spero che il video vi sia piaciuto soprattutto sia piaciuto ai ragazzi che hanno richiesto il video in questione vi invito a prestare molta attenzione quando andata a fornire liquidità con delle coppie particolari ricordatevi sempre dell'impermanent loss e soprattutto se andate a utilizzare dei servizi o exchange con liquidità non elevatissime quindi fate sempre le vostre ricerche mi raccomando l'ultima parola aspetta a voi e non di sicuro a me per il resto vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro ed ogni bianca le nostre community sia tele che discord ciao a tutti alla prossima ciao